È veramente un viaggio attraverso i secoli, attraverso le bellezze che ci circondano, che spesso le diamo per scontate o non andiamo ad ammirarle, ma che invece meritano di essere conosciute dagli aretini e ovviamente dai turisti. Non c'è Natale ad Arezzo che si rispetti senza un libro pubblicato dalla cartaria aretina da mettere sotto l'albero. L'ultimo volume è Tesori d'Arezzo a cura di Giorgio Ferri che pagina dopo pagina accompagna il lettore in un viaggio che va dal 200 al 900. Un anno omaggia i grandi aretini, un anno omaggia l'arte di Arezzo, un anno parla delle curiosità, delle storie, degli anedoti che riguardano il territorio e quest'anno il volume è dedicato ai Tesori di Arezzo, quindi già il titolo è importante perché è un percorso, veramente un viaggio che parte dal 200 e arriva al 900 e ripercorre la storia dell'arte ad Arezzo attraverso le grandi opere che sono state lasciate in città, ma anche quelle opere meno conosciute ma che meritano di essere valorizzate perché comunque fanno parte della storia di Arezzo e della storia dell'arte. È un taglio divulgativo quello che è stato dato al volume, ci sono tantissime immagini, in gran parte inedite, corredate ovviamente da Didascalie, ma sono Didascalie che raccontano anche delle piccole curiosità legate a quelle opere. È un volume che vanta la prefazione di Claudio Santori, io Marco Botti ho curato le introduzioni che in ogni capitolo fanno una breve panoramica sull'arte ad Arezzo e sui personaggi che l'hanno scandita nei vari secoli e tutto poi allegita la curatela di Giorgio Ferri.